Il Comune di Cavriglie e di San Giovanni Valdarno hanno ufficialmente siglato la nascita dell'Unione dei Comuni. Un ulteriore pezzo nel puzzle delle fusioni che negli ultimi mesi ha visto unirsi Figline Valdarno con Incisa e intraprendere percorsi simili tra Pian Discoe e Castelfranco di Sopra, sempre in Valdarno, e Castel San Nicolò e Montemignaio in Casentino. I sindaci dei due Comuni di Cavriglie e San Giovanni, Maurizio Villigiardi e Ivano Ferri, hanno firmato l'atto costitutivo del nuovo ente che interesserà un territorio con 27.000 abitanti. Il percorso è stato programmato attraverso passaggi graduali. Per il momento verranno unificati la gestione del personale e gli sportelli unici per le attività produttive e per l'anagrafe. Solo in un secondo momento verranno affrontati i nodi del sociale, della scuola e dell'urbanistica. L'atto arriva dopo che nel maggio scorso era stata siglata la Convenzione per la Gestione dei Servizi Associati e dopo l'approvazione dell'atto costitutivo dell'Unione nei due consigli comunali. Entro l'autunno si dovrà passare alla fase operativa. La sede legale è stata definita presso il Comune di San Giovanni e nel mese di settembre la giunta, composta da due sindaci Villigiardi e Ferri, eleggeranno il Presidente e i due consigli comunali sceglieranno i membri del nuovo parlamentino. Cinque saranno di San Giovanni e tre di Cavriglia, rappresentativi di maggioranza e opposizione. Sullo sfondo il dibattito a tratti anche aspro che da anni viene portato avanti in merito la Costituzione del Comune Unico in tutto il Valdarno Aretino, includendo quindi anche Montevarchi e Terra Nuova Bracciolini. Per ora non se ne fa di nulla, ma chi lo sa che una volta caduta la prima tessera, come in un domino, anche gli altri non restino più a guardare.